Sono qui con Serena, intanto benvenuti, buongiorno a tutti, di cui mi fa molto piacere presentare e introdurre lo speech che andrà a tenere fra qualche minuto. Per diversi motivi, intanto è evidente che il nome dell'azienda che compare lì è un enterprise, siamo a livello enterprise, CRIF è un'azienda del sistema bancario, del sistema interbancario, mi fa molto piacere parlare di questo progetto in cui ho partecipato e ho aiutato l'azienda ad arrivare a una trasformazione vera e propria, ma mi fa piacere per diversi motivi, il primo perché tutti conosciamo il sistema bancario, il sistema interbancario, viene percepito tendenzialmente come azienda obsoleta, azienda con i processi molto ferrei, azienda che ha bisogno da un lato di informazioni precise, ma da quell'altro di strutture che sono molto legacy da un certo punto di vista. In realtà il movimento della digitalizzazione nel percorso del tempo ha cambiato questo paradigma anche nel sistema bancario, perché la digitalizzazione dell'informazione prevede e pretende una velocità che prima non c'era. CRIF evidentemente fa anche sviluppo e fa sviluppo internamente, quindi c'è stato bisogno a un certo punto di cambiare la modalità con cui il lavoro delle persone, il lavoro dei team all'interno dell'azienda fosse diverso rispetto a prima, fosse più veloce, portasse dei risultati comunque con un livello di precisione e un livello di gestione, di condivisione dell'informazione che prima non c'era. Il secondo aspetto che mi fa piacere è che tendenzialmente ho lavorato con quote rose di CRIF, praticamente solo con donne ho lavorato in tutta questa trasformazione e questo mi fa piacere, primo perché tutte persone giovani e quindi fa piacere comunque vedere che ci sono persone giovani che entrano nel merito, che entrano nel vivo dei cambiamenti. Secondo luogo perché è bello vedere un meccanismo di team e di controllo e di trasformazione con una sensibilità femminile, non vi nascondo che è interessante vedere questo tipo di approccio. Io a questo punto però vorrei che fosse proprio serena raccontarci un attimino quello che è stato un po' tutto il processo che è vivo da parecchio tempo, se non ricordo mai, quasi cinque anni. Quindi è una trasformazione che l'azienda evidentemente ha scelto come progetto generale, un cambiamento organizzativo, proprio del paradigma aziendale. Quindi ti lascio la parola e se c'è bisogno sono qua. Grazie. Buonasera a tutti e innanzitutto ringrazio Roberto per l'introduzione, per le belle parole spese. Io sono Serena Tosoni, faccio parte del team Process Engineering and Quality che si gala all'interno della realtà di Global Technologies in CRIF. In particolare tra le varie attività di cui il mio team si occupa c'è quella di definire e facilitare anche l'implementazione di processi, procedure, linee guida, tutto ciò che è a supporto dell'implementazione di progetti di sviluppo software. E appunto tra le altre attività abbiamo anche seguito tutto un percorso di agile coaching proprio perché, come diceva Roberto, volevamo introdurre all'interno delle nostre metodologie appunto l'agile. Capiremo poi nel corso della presentazione perché il motivo di questo titolo, Diversity is Hour Unicity e in particolare in che modo siamo riusciti ad unire il tema della agile transformation con il tema della diversità. Partiamo però dando un po' uno sguardo a chi è CRIF. Dunque CRIF è un'azienda globale che si occupa principalmente di mettere a disposizione dei consumatori ma anche delle aziende, degli strumenti per una gestione consapevole del credito. In particolare diamo a disposizione una suite a tutto tondo, possiamo dire, la quale si sviluppa principalmente su cinque linee di business. Il core business e quindi la parte partita inizialmente è quella relativa ai sistemi di informazioni creditizie e di business information, quindi la gestione sia di dati pubblici che di dati propri proprietari di CRIF. Abbiamo poi un'altra linea relativa alle solution, al business process outsourcing, al CRIF ratings e anche una parte di personal solutions. Una cosa di cui vado molto fiera, che mi fa piacere dire, è che CRIF nasce proprio a Bologna, quasi più di 30 anni fa, perché nasce appunto in 1988, ma attualmente si sviluppa e opera in quattro continenti. Abbiamo più di 30 paesi con delle attività, ma possiamo dire che chi utilizza i servizi CRIF sono più di 50 paesi e giusto per dare qualche numero abbiamo circa 500 installazioni software. Pertanto, anche io ho portato la slide con la cartina, come il collega precedente, poi vediamo qual è la più bella. Appunto, come dicevo, operiamo in quattro continenti e quindi già da questo primo sguardo è chiaro capire come la diversità sia un tema focale per CRIF. sicuramente non lo era nel momento iniziale, ovvero 30 anni fa, ma lo è tutt'oggi. Prima di capire come siamo riusciti a calare la nostra agile transformation all'interno del tema della diversità, vorrei focalizzarmi sul perché la necessità di fare proprio una trasformazione di questo tipo, come diceva anche Roberto, soprattutto in un settore come il nostro. Il primo motivo e il più semplice però in realtà sempre il più vero e efficace è perché ce l'ha chiesto il cliente, ovvero il cliente stesso voleva essere informato e voleva essere consapevoli di in che modo andavamo a sviluppare i nostri software e voleva avere anche dei feedback sempre più anticipati su come le nostre soluzioni erano sviluppate. L'altro tema importante invece è quello relativo alle caratteristiche di questi progetti. Andando a portare progetti sempre più innovativi e quindi andando ad esplorare sempre nuovi ambiti, appunto questo approccio esplorativo ci ha dettato la necessità di dover partire con dei progetti anche se all'inizio non avevamo tutti gli effetti dei requisiti pronti, non avevamo tutta una documentazione, ma comunque il time to market era piuttosto aggressivo, pertanto c'era la necessità di partire. Questo si coniuga anche con la necessità di anticipare la fase di test, quindi non relegare al solito la fase finale di un progetto quando ormai la scadenza è vicino al test, ma di cercare di farlo quanto prima possibile e quindi avere dei feedback quanto prima possibile. All'interno di tutto questo, come dicevo prima, si è calato anche il tema dell'espansione dell'organizzazione, soprattutto nel corso degli ultimi anni sono state diverse le sedi estere acquisite da Grif che ad oggi operano al 100% come i nostri colleghi. Inizialmente quando siamo andati a fare queste acquisizioni o comunque sia ci siamo messi in contatto con i nostri, allora non colleghi, ma comunque ad oggi colleghi, tutti ci dicevano noi facciamo agile, almeno non tutti, ma comunque una buona parte. E questo è bello, cioè a primo impatto potrebbe essere bello. Peccato poi che andando un po' a studiare, a spulciare, a guardare nel dettaglio non era sempre effettivamente così. Cioè nel senso che qualche team credeva che fare agile era scambiarsi le informazioni al caffè, piuttosto che ok ci vediamo tutte le mattine 15 minuti, allora facciamo agile. In realtà non è proprio così, nel senso che questa metodologia come credo un po' tutti sappiamo qui richiede in realtà molta più disciplina, metodo rispetto a degli altri approcci anche più tradizionali. Come siamo riusciti a capire il loro modo di fare agile, ma soprattutto come siamo riusciti a coniugarlo all'interno del nostro modo di fare agile. In un primo momento siamo andati a fare sia degli assessment on site oppure principalmente da remoto, in cui ci siamo proprio messi in contatto diretto con i nostri colleghi per capire che cosa stessero facendo. Questo, è importante sottolinearlo, ci ha portati ad avere dei feedback e uno scambio che non era solo unidirezionale, ma proprio bidirezionale, perché non siamo stati noi come CRIF, possiamo dire Bologna come headquarter, a esportare il nostro modo di fare agile, ma siamo riusciti anche ad importare alcune delle pratiche che fino a quel momento non erano state gestite internamente. Un esempio su tutti è stata l'applicazione dello Scrum of Scrums. I nostri colleghi svizzeri, in collaborazione con un team di sviluppatori del Vietnam applicavano già questo framework da diversi anni, il quale framework non era presente all'interno dei nostri processi, semplicemente perché fino a quel momento non era nata la necessità. Abbiamo quindi fatto degli allineamenti, capito in che modo loro applicavano la metodologia e poi lo abbiamo importato all'interno dei nostri processi, il che ci ha aiutati poco dopo di fronte a un nuovo progetto, questa volta con dei colleghi polacchi che lavoravano e in realtà lavorano tutt'oggi con una business unit tedesca, i quali dovevano gestire un progetto piuttosto ingente, dislocato e proprio in quello scenario lo Scrum è calzato a pennello e quindi c'è stato un miglioramento reciproco. Chiaro è, o abbastanza intuitivo, che questo miglioramento, questo passaggio dalla metodologia tradizionale alla metodologia Scrum non è stata una cosa immediata, una cosa avvenuta dal giorno alla notte, ma è stata molto più complicata. Perché? Adesso qua mi è saltata l'animazione quindi ho già spoilerato il tutto. Sì, perché voi non lo sapete, ma su questa slide ci si è stati delle ore, perché l'immagine occorreva tautologici oppure metaforici, passare da qua o passiamo da di là? Abbiamo sventagliato di tutto, però che ti salti anche l'animazione. Adesso chiedo a tutti di guardare la parte sinistra in modo tale che non si guardi quella destra. Quindi abbiamo cercato in un certo senso di passare a un approccio, quello che ho riportato come l'approccio insalata all'approccio vellutata. Che cosa intendo? Forse in un certo senso come appunto retaggio da un approccio tradizionale, waterfall, i nostri team erano caratterizzati da persone, colleghi appunto, con delle professionalità diverse, anche delle professionalità piuttosto spiccate che venivano messi insieme all'interno di uno stesso team, mischiati, ma che comunque in un certo senso mantenevano sempre la loro unicità, la loro differenza. Però prendevano il caffè insieme tutte le mattine. Prendevano il caffè insieme tutte le mattine e quindi facevano agile. Questo lo facevano. Questo all'inizio, anche introdurre proprio il cambiamento, l'approccio, è stato molto difficile perché anche i primi team agile che abbiamo facilitato, possiamo dire, sono stati dei team insalata, cioè dei colleghi che sì, facevano lo stand up, gli sprint planning, ma non riuscivano a rappresentare proprio il concetto del team cross funzionale tipico dello Scrum nel nostro caso di studio. Con il passare del tempo e con il passare e soprattutto grazie all'aiuto di alcuni strumenti qua spoilerati, siamo riusciti a passare invece all'approccio vellutata, cioè un team che comunque teneva le proprie peculiarità, quindi possiamo dire i propri picchi di sapore, quindi dei determinati skill particolari, ma che comunque era un team omogeneo, cross funzionale, indipendente, quindi a tutti gli effetti possiamo dire un team agile. Il primissimo strumento, il nostro fullatore, il mini pimer che ci ha permesso di fare questa cosa è stata l'esperienza, i tentativi, è sempre quello più banale, ma sicuramente è sempre quello più efficace, ovvero come si dice nella scena del famoso film, abbiamo provato, quindi provare, provare, provare e questo è quello che abbiamo fatto, ci siamo armati di buona pazienza, ci siamo armati soprattutto, abbiamo tolto la paura di fallire e abbiamo iniziato a provare. Abbiamo fallito, sicuramente, ma ciò che questi tentativi ci hanno lasciato è stato un'esperienza e in particolare delle lesson learned, quindi tutta una serie di retrospective che poi abbiamo utilizzato con gli altri progetti che invece volevano partire. Perché? Perché come vedete qui il secondo fattore è stato l'agile coaching, è stato proprio il mio team e io insieme a un'altra collega a cui è presente del team che ci siamo fatte portatrici di questa nuova metodologia verso i nostri colleghi e quindi fisicamente siamo andate nelle riunioni e abbiamo partecipato ai planning, ci siamo messi in contatto anche con i nostri colleghi del business, innanzitutto per capire se i progetti potevano trarre ciò che c'è di bello, trarre vantaggio da ciò che c'è di bello nell'agile e anche per capire come veicolare al meglio la metodologia, proprio per non cadere negli errori dei nostri colleghi di cui parlavo prima e quindi ci siamo messi in piedi, siamo andate nelle sale e anche on site quando è necessario per fare questo tipo di coaching. Il terzo strumento invece è stato Gira Software, la necessità di avere un tool unico che veicolasse tutte le necessità nasce soprattutto dai team dislocati di cui parlavo precedentemente, perché in un primo momento si trattava principalmente di fare del coaching a dei team italiani che erano presenti nello stesso posto e quindi il tutto veniva molto più facile, in un secondo momento invece in cui la diversità è diventata un tema focale per CRIF ciò che avevamo non ci bastava più e quindi sebbene avessimo provato ad adattare il tool attualmente presente, una martellata di qua, una di là, per cercare di adattarlo all'agile, non sempre è stato vincente come approccio e in questo Get Connected ci ha supportati proprio nell'introduzione di Gira Software. Per dare uno sguardo più dettagliato al percorso e per dare anche delle tempistiche su come questa agile transformation è avvenuta, nel 2015, quindi come dicevamo prima circa 5 anni fa, proprio perché avevamo iniziato a pensarci già da prima, abbiamo introdotto lo Scrum in particolare, ma in generale l'agile all'interno dei nostri progetti di sviluppo software e chiedendo soprattutto ai team che andavamo a facilitare di avere un cambio di approccio radicale, cioè la primissima cosa che ci chiedevano quando andavamo a fare il nostro coaching era ma che cosa devo fare per diventare agile, devo vedermi tutti i giorni, devo fare il planning, devo fare un backlog e quello che noi dicevamo era sì ok ma questo è un di cui, cioè questa è una cosa che avviene successivamente, ciò che è importante è cambiare il proprio approccio, cambiare la propria mentalità e cercare di capire che l'agile è tutt'altro rispetto a quello che è stato fatto fino ad oggi. Inizialmente siamo partiti nel modo più semplice possibile, avevamo i team collocati, avevamo i nostri post-it con le lavagne, quindi come credo un po' tutti siamo partiti attaccando i post-it alla lavagna. Ok, ha funzionato, però arrivati a questo punto c'era un problema, il problema che adesso un po' tutti volevano farlo, cioè nel senso prendeva piede e quindi c'è stata la necessità di capire in che modo estendere la POC anche a degli altri team. E l'abbiamo fatto esattamente come spiegato in precedenza, ovvero attraverso un coaching e attraverso la condivisione delle retrospective, quindi anche i fallimenti degli altri team per noi erano delle informazioni preziose che venivano portate a tutti gli altri. Ancora una volta però avevamo un problema e stavolta il problema era di come gestire tutti questi team distribuiti e come gestire tutte queste sfaccettature dell'agile che avevamo tra le nostre sedi estere. E quindi abbiamo iniziato inserendo nel nostro piano di facilitazione internazionale tutta una serie di attività relative all'integrazione delle varie sedi estere, quindi siamo entrati in contatto con i referenti, poi in contatto anche con i team stessi e questo già ha permesso di migliorare. Qui il tool che avevamo utilizzato fino a questo momento sicuramente non ci bastava più e siamo ritornati a richiamare Get Connected che già ci aveva facilitati nella fase iniziale, ovvero quando abbiamo introdotto nel 2015 l'agile, è stata proprio Get Connected che è venuta in azienda da noi e tramite appunto un consulente anche lui si è seduto nelle riunioni e ha capito quali erano le nostre tre necessità. Stessa cosa l'ha fatta questa volta Roberto che è venuto da noi e in gentile compagnia ha iniziato a definire i workflow o comunque sia declinare tutte le varie necessità che avevamo all'interno di Gira, partendo anche qui con i progetti pilota. Ancora una volta però avevamo un problema, in realtà ce l'abbiamo, nel senso che siamo arrivati al 2019 e il problema adesso è relativo alla gestione innanzitutto non più soltanto dello Scrum ma di altre metodologie agile, come nel nostro caso stiamo introducendo la metodologia Kanban per i nostri progetti e anche per rilasciare la piattaforma, questo è già in realtà avvenuto, a tutti gli altri team e capire in che modo anche chi non utilizza una metodologia agile possa comunque far uso di Gira software. Quindi per concludere abbiamo iniziato il nostro percorso di agile transformation 5 anni fa, quando forse anche lo scenario economico era leggermente diverso rispetto a quello attuale. È stato proprio l'agile che ci ha aiutato ad affrontare quelle sfide, ad affrontare tutte le nuove difficoltà che i nuovi mercati, le nuove necessità ci hanno messo di fronte. E allo stesso tempo è stato proprio l'approccio agile che ci ha permesso di dare voce alle diversità come unicità, perché progetti come per esempio un progetto che ad oggi anche è tuttora in atto con un business turco, sviluppatori a Bratislava, tester in India e un'altra parte di business in Italia, capite bene che non è facile coniugare tutte le varie necessità. Ma è proprio l'idea di andare dritti verso uno stesso obiettivo, verso uno stesso progetto che ci ha dato la possibilità di unire questi colleghi, questi attori con caratteristiche diverse. La sfida che oggi abbiamo è quella, come dicevo in precedenza, di migrare tutta la parte del demand management che ad oggi non è su gira e che ad oggi segue degli approcci più tradizionali. E quindi ancora una volta Roberto è al nostro fianco per poter declinare le richieste. Che cosa c'è di nuovo? Sinceramente non lo sappiamo. Questo lo so io. Questo lo sei tu. Ce lo dici oggi? No, però questo lo so. Sicuramente sappiamo che in una situazione economica ma anche culturale come quella attuale le necessità cambiano molto repentinamente. C'è questa frase che a me piace molto che dice che una volta che hai trovato le risposte ti hanno già cambiato tutte le domande, detta da un luminare da Charlie Brown e questo è quello che noi non vorremmo mai fare, cioè nel senso noi vorremmo arrivare a un certo punto ad essere quasi noi a dettare le domande o comunque sia non arrivare a dover dare delle risposte in ritardo. E l'Agile ci ha permesso di essere in tempo rispetto a queste domande, proprio perché crediamo che la nostra potenza e le nuove sfide si celino dietro alle differenze piuttosto che dietro alle similarità. io vorrei fare una piccola chiosa perché quando ho iniziato due anni fa circa a lavorare su progetti legati al mondo Atlassian in CRIF, devo dire la verità che tutta quella differenziazione di localizzazione, quindi l'Austria e la Svizzera e la Polonia e Sud America, in realtà non era solo una suddivisione perché CRIF ha acquisito aziende, ma in realtà ci siamo trovati a vedere all'interno di tutte queste aziende, in buona parte per tanti versi, magari già l'utilizzo delle piattaforme. Come? A modo suo. Quindi è evidente che sia nell'aspetto del metodo che CRIF, sia dal punto di vista del metodo, giustamente Serena faceva notare Agile, sì, ma come Agile? Chi fa Agile? Cos'è Agile? Quindi io lo faccio perché tu lo fai per come, in realtà non è mai la stessa cosa. Anche le piattaforme Atlassian, Gira in particolare perché la piattaforma di process management, era utilizzata in ogni location in maniera, proprio immagine e somiglianze evidentemente, quindi mancava tutta una struttura anche di omogeneizzazione. Quindi uno dei lavori che stiamo facendo, che in buona parte già ha un ottimo punto, è quello non solo di omogeneizzare il sistema del metodo, del framework, della cultura, del mindset dell'agile, ma anche quello di riuscire a rimiscelare tutte queste piattaforme in una logica corporate, tant'è che Gira è diventato, Atlassian diciamo come Gira, è diventato di fatto il riferimento corporate. Quello che sta succedendo è che non ci va a finire dentro, parlava di demand prima, che a me fa un po' paura, detto così perché stiamo parlando di centinaia e centinaia di utenti, ma quello che è molto interessante è che comunque all'interno di un'azienda di questa dimensione è evidente che i paradigmi di progettazione o di business requirement sono i più disparati, quindi io parto da un lato, potrei avere una logica waterfall come esiste, esiste un demand che lavora in un certo modo, esiste un sistema di backtracking necessario e fatta in un certo modo che sta all'interno di Gira, quindi anche il mix all'interno della stessa piattaforma di esigenze che sono diverse e che non verranno agilizzate tutte per definizione, perché ci sono progetti che è necessario fare in waterfall. Io all'ultimo Agile Business Day ho conosciuto un professore che mi raccontava aver conosciuto un progettista della NASA e quello della NASA gli ha detto che noi il software lo facciamo con Agile, ma tu manda il razzo sulla Luna con l'Agile, ci sono dei sistemi di progetto e di processo che prevedono e pretendono schemi diversi, l'importante è conoscere quello che è lo schema di processo che mi serve, avere alle spalle abbastanza larghe da un punto di vista culturale, filosofico e di evidentemente approccio alle cose e avere alle spalle o comunque sotto una piattaforma che mi dia la possibilità di manovrare queste differenziazioni. Una cosa che ti volevo chiedere era questa, visto tutto questo mix di location, come avete gestito il portare l'Agile con tutte le sue prescrizioni? Perché dicevi tu prima, l'Agile non è ci vediamo lì o facciamo là, ha una serie di regole comunque, ci sono una serie di meccaniche, di dinamiche che vanno portate avanti. Come avete risolto per mettere insieme all'interno magari di uno stesso risultato di progetto tre team che stavano a 2.000 km di distanza, con fuse orari completamente diversi e modalità anche di lavoro diverse? Sì, sicuramente la parte più complessa è appunto quella del fuse orario, nel senso che comunque avendo anche dei team dislocati in Europa, noi abbiamo un pool a Cracovia, un'altra parte di Hamburgo, a Bratislava, in Austria comunque e a Bologna, avendo lo stesso fuso orario l'unico impedimento che c'era in quel momento era la presenza fisica, tutti nella stessa sala e questo inizialmente è stato veramente un impedimento, possiamo dire, c'era un po' la difficoltà ad esporsi, a metterci la faccia, cioè tipicamente quando facciamo delle call, delle conference call o delle web ex, tipicamente teniamo la telecamera spenta, però è chiaro che in uno stand up o in uno sprint planning vedere quando tu lanci la stima la faccia che fa quell'altro sarebbe comodo, quindi inizialmente abbiamo chiesto che ognuno accendesse la propria telecamera personale. Per quanto riguarda il fuso orario, principalmente la necessità è nata quando il team degli Stati Uniti ha dovuto collaborare con i collaboratori a Bratislava, oppure nell'altro senso del fuso orario quando i team in Europa, possiamo dire, devono collaborare con i team in Appune, principalmente in India, lì abbiamo trovato una via di mezzo, possiamo dire, c'è un orario come le 3 del pomeriggio per esempio, ti dà la possibilità di avere colleghi americani già bene o male svegli, connessi, svegli, nel senso per loro magari poi erano dalla parte est degli Stati Uniti, chiaramente non erano a Los Angeles, quindi stati fortunati da questo punto di vista, mentre invece per i colleghi indiani loro hanno l'organizzazione del giorno un po' shiftata, nel senso che se si fa un meeting alle 9 e mezza lo stand up per intenderci in Italia, loro sono 3 ore e mezza, 4 ore e mezza avanti, dipende poi da loro e quindi comunque riescono a gestirlo all'interno della mattinata, quindi non scavallare l'orario di pranzo. Ci siamo venuti incontro, sicuramente. E a Gile anche questo. Devo anche dire che quando due anni fa ho iniziato a guardare insieme al team di Serena che cosa c'era dentro, devo dire che il loro percorso di trasformazione a Gile è interessante, perché se volete è quasi, non dico da manuale, perché Michele mi dirà che non esiste il manuale della Gile, quindi non lo dico, però sicuramente i passaggi sono stati molto interessanti, perché? Perché sono quelli che a mio avviso credo siano quelli necessari. Primo la filosofia, cioè il mettere in pista una competenza che non era una competenza tecnica, non era una competenza di metodo o di tool, ma un cambio di pensiero, è la prima cosa che hanno fatto. La seconda è stata quella di utilizzare veramente la fisicità della Gile, quindi le board era facile in quel momento, probabilmente perché i team erano locati tutti nella stessa sede o nelle sedi di Bologna, ma tutti più o meno qui e quindi era facile manovrare anche le wallboard effettive e gestire attraverso le wallboard. che era il requisito che si muoveva, ciò che era il gestore che veniva stimato e quant'altro. Mi ricordo peraltro, se non ricordo male, che gli sprinti in quel momento finivano gestiti con Excel, vero? Perché stai fanno Excel e ti confermo che era così. Perfetto, vive Excel. Allora, gestivano, che cosa avevano fatto? Anche questo è un passaggio molto interessante, non hanno cercato un tool effettivo, non sono andati a cercare un tool che mi rispondesse alla definizione dell'Agile, ma che cosa hanno fatto? Hanno applicato quello che stavano applicando a un muro dentro delle celle di Excel, perché? Perché così manovravano più o meno la stessa stregua, però aggiungendo la capability della gestione dello sprint, quindi si erano fatti grafici con i bar down, avevano costruito il mondo del controllo delle sprint e della pianificazione del backlog dentro Excel. Evidentemente andava tutto bene finché i team sono due. Uno si può far male, d'accordo, però andava bene perché foglio due team, tre team sono in fase di start up. Qui è nata ed è stato veramente il cambio di passo, perché da lì si sono resi conto che il tool di condivisione, il tool per andare veramente a condividere invece quelle informazioni era necessario e in questo abbiamo trasformato dei processi che erano meccanici in quel momento, erano manuali del tutto, li abbiamo trasformati evidentemente in processi digitalizzati. sicuramente ha reso più facile tutta la struttura di condivisione delle informazioni. Io ti faccio solo un'altra domanda, la cultura, questa differenza di posizionamento geografico non è solo un questione di 2000 km, è questione anche di cultura di progetto completamente diversa. Questa cosa ha impattato negativamente, tu hai parlato di diversità che diventa un punto di forza e non un punto di debolezza? Allora, secondo me per rispondere basta un esempio molto semplice, stessi attori, stesse persone, stesse culture che però gestiscono dei progetti tradizionali e che gestiscono dei progetti agile. Questo ti dà, è chiaro che ogni cultura ha la propria peculiarità e sicuramente all'inizio c'è stata la necessità di oliare un po' i rapporti, ma come in tutte le cose, però allo stesso tempo vedere la reazione o in particolare proprio la collaborazione di stessi colleghi, quindi sviluppo a Bologna possiamo dire e una parte di Quality Assurance ad esempio in India, come collaborano in progetti tradizionali e stesse culture come collaborano in progetti agile, questo già ti dà la risposta, la differenza, quindi la risposta è dentro di te, cioè nel senso è più un discorso, basta trovare Cioè alcune volte davvero si cerca di trovare la risposta in alcune sovrastrutture, in tutta una serie di fatti, di cose, ma in realtà è molto più semplice, cioè basta veramente avere un unico obiettivo, sentirsi parte dello stesso team, sentirsi tutti committati all'interno di uno stesso progetto per vedere che la collaborazione è molto migliorata. Funziona. Funziona. Grazie. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te. Grazie. Grazie. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te.